Stabiliamo le prioni. Ti devi equipaggiare. Sali a piano c'è. Troverai che io puoi. Ok. Gilles, sono ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrai fare? Devi prima ripristinare la corrente. Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Vado subito. Vado subito. Oh no! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.